Amici sportivi, per la rubrica Montecchio Next Generation andiamo a vedere i goal del weekend delle squadre del settore giovanile del Montecchio Maggiore Calcio. Ringraziando i partners commerciali che anche quest'anno sono a fianco della società, vi auguro una buona visione e vi ricordo di seguire i canali social del Montecchio Maggiore. Pagina Facebook, pagina Instagram, canale YouTube e sito web. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.